Il tempo di archiviare la bruciante sconfitta contro Sassari e la Sidigas Avellino ha ripreso a lavorare da questa mattina per la settima gara stagionale. Domenica sarà sfida contro l'Acqua Vidasnella Cantù, in quella che dovrà essere la gara del rilancio. Ripresa tra tiri e salapesi per i lupi, con la sola assenza di Giovanni Pini, a Brescia per l'ozonoterapia e curare i suoi continui fastidi alla schiena. Il lungo carpigiano seguirà la sfida di Cantù da bordo campo. Il campionato si avvia la seconda parte del girone d'andata, quella che determinerà punti pesanti in chiave qualificazione Final 8. E proprio in quest'ottica il match del Pianella, che Otto Channel trasmetterà in diretta, assume un peso specifico importante. Avellino ha il dodicesimo posto effettivo della gradatoria, a quota 4 punti, mentre i Brianzoli, bestia nera di Avellino, hanno vinto solo una gara in casa contro Torino, sprecando tantissimo contro Reggio Emilia e Brindisi. Una classifica bugiarda per quanto prodotto in campo sia per Avellino che per Cantù, in una gara dai tanti ex da parte irpina. Coach Sacripanti tornerà d'avversario, come sarà il ritorno al Pianella per Martin Lunen e Ivan Buva, protagonisti nelle scorse stagioni in Maglia Cantù. Avellino salirà in Brianza per il rilancio, a Cantù, per iniziare un nuovo percorso.